Salve a tutti, sono Raffaele Raffio, baritono e all'interno della manifestazione del Festival Puccini Anno quest'anno avrò l'opportunità e il grande piacere di debuttare il ruolo di Michele del Tabarro che è un ruolo assai complesso, spero di riuscirci bene, stiamo studiando affinché il ruolo possa uscire al massimo delle mie forze. Cosa vuol dire stare qui? In questo posto magnifico dove la musica di Puccini ha un valore normalmente già altissimo in questo posto ha un valore aggiunto perché siamo a casa sua, bisogna andare in punta di piedi quando si canta Puccini e bisogna avere il massimo rispetto del posto dove siamo. Si sentono in sottofondo gli uccellini che lui sente, che scrive nelle varie opere siamo in questo posto magnifico nel lago dove lui amava stare ed è veramente un grande onore per me avere avuto l'opportunità e continuare ad avere l'opportunità di studiare non solo il ruolo di Michele ma anche con grandissimi docenti con i quali facciamo delle masterclass, insomma davvero una bella esperienza.